un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo nel giardino nel giardino dei frati abbiamo lì l'edicola dell'orto del giazzemani dove padre pio ritagliava qualche momento di preghiera e di meditazione in questo luogo dove poteva raccogliersi oggi qui per raccontarvi di un dono di un dono particolare che padre pio aveva che hanno alcuni alcuni santi la hierognosi ovvero era la facoltà di riconoscere delle cose degli oggetti sacri ecco ce lo racconta padre pio capuano nel suo libro con padre pio come in una fiaba tra sogno e realtà lui racconta proprio attraverso degli episodi quello che accadeva qui quotidianamente con con padre pio con questo carisma ecco padre pio aveva anche la facoltà di riconoscere ad esempio anche un sacerdote quando veniva qui perché non voleva farsi notare oppure perché non poteva venire perché appunto ricordiamo che c'era da parte della della chiesa del sant'ufficio anche una certa una certa attenzione nei confronti di padre pio quindi anche coloro sacerdoti anche i vescovi che volevano essere qui a volte si diciamo camuffavano ecco riconoscere un sacerdote anche se questi non aveva alcun distintivo scrive padre pio capuano e di sapere ad esempio anche se determinati oggetti erano già stati benedetti di riconoscere le cose consacrate come le ostie le immagini le reliquie dei santi senza neppure vederle e distinguerle da altri oggetti profani ecco è un vero e proprio dono la hierognosi un giorno ad esempio nella sala san francesco che più volte abbiamo visitato tra la gente che attendeva il suo arrivo proprio in prima fila vi era un signore vestito in modo molto elegante raccontano i suoi confratelli padre pio non appena lo vide lui era vestito con un abito racconta padre pio capuano di principe di galles non appena lo vide subito gli disse reverendo siete venuto travestito ma non dovete vergognarmi di venirmi a trovare la prossima volta tornate vestito da prete e poi ancora un'altra volta in una situazione simile si avvicinò un giovane in pantaloni e maglietta e subito padre pio lo chiamò si avvicinò e disse va e ritorna in convento con l'abito di san domenico meravigliato il giovane avvertì così un certo disagio ma trovò il coraggio di dire agli altri presenti confessare quindi che lui era un sacerdote domenicano molti avevano anche questa convinzione racconta racconta padre pio capuano una convinzione che la benedizione di padre pio ecco rendesse maggiormente sacro un oggetto per questo motivo molti gli presentavano tutte le loro coroncine le loro immaginette ecco le loro medagliette che erano state comunque già benedette da altri sacerdoti padre pio che si era accorto di questo diceva sempre agli interessati ma queste questi oggetti hanno già avuto la loro benedizione quindi li restituiva senza benedirlo ad esempio una signora una signora che insisteva perché nonostante che una corona fosse già stata benedetta voleva la benedizione di padre pio in modo insistente allora padre pio con tono serio e di rimprovero le gridò la mia non è una benedizione magica